Roma, Italpress, il tema dell'innovazione è un traguardo importante per il tessuto del paese Parlando di trasformazione digitale e innovazione il ruolo di team è scritto nel nostro DNA e nella nostra storia Senza andare troppo indietro siamo l'azienda che da 60 anni fa parlare gli italiani Negli anni 90 abbiamo portato la fonia mobile e internet, nel 2000 la banda ultra larga e il cloud Ora l'innovazione è l'intelligenza artificiale, quel tessuto collettivo che deve consentire ad aziende e pubbliche amministrazioni di ammodernare il modo con cui gestiscono i loro utenti In un'intervista all'Italpress, Antonio Morabito, responsabile marketing enterprise di Team, ha presentato Team Enterprise, la nuova business unit dell'azienda che offre soluzioni digitali sostenibili e all'insegna dell'innovazione tecnologica per le imprese e la pubblica amministrazione Nel 2022 abbiamo creato una divisione ad hoc, Team Enterprise, che nella propria mission ha l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese Il concetto è che l'innovazione nel 2023 non è più fatta da singoli elementi, quindi internet e connettività dei computer, ma vanno messi insieme tanti ingredienti e farlo è complicato Questo ha spiegato ci sono tanti attori che fanno